Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video caro a Sofì, oggi vi canterò 12 luglio di Valerio Mazzei, buon ascolto! Non parlo mai di sentimenti, e se mi chiedi cosa senti, mento sempre ormai, ho il sogno in tasca e il cuore in pugno, sei la luce in questo buio, è vero oggi 10 maggio, mamma, il 12 di luglio. Chissà se mamma mi osserva anche da lassù, l'unica donna che amo sarai sempre tu, la guardavamo insieme e ora sono in tv, gli occhi li ho presi da te, ma non ti vedo più. Preferisco davvero chi sono, non quello che c'è online, a quanto perso mi importa la vera risposta, un come stai, ma se vorrai capirmi ti porto con me dentro i miei guai, tu ci verrai, tu ci verrai. Gli amici falsi non ti danno mai una mano, ed è per questo che li ho tenuti lontano, lo sai, sorrida e testa alta come a mezzogiorno un girasole, se vorrei poterti dare molto più di una canzone. Chissà se mamma mi osserva anche da lassù, l'unica donna che amo sarai sempre tu, la guardavamo insieme e ora sono in tv, gli occhi li ho presi da te, ma non ti vedo più. Preferisco davvero chi sono, non quello che c'è online, a quanto perso mi importa la vera risposta, un come stai, ma se vorrai capirmi ti porto con me dentro i miei guai, tu ci verrai, tu ci verrai. Mi manchi con me, mi mancano le parole, ma non ti preoccupare, io me la caverò, spero tu stia guardando quello che sto facendo, quando ci rivedremo te lo racconterò. Chissà se mamma mi osserva anche da lassù, l'unica donna che amo sarai sempre tu, la guardavamo insieme e ora sono in tv, gli occhi li ho presi da te, ma non ti vedo più. Preferisco davvero chi sono, non quello che c'è online, a quanto perso mi importa la vera risposta, un come stai, ma se vorrai capirmi ti porto con me dentro i miei guai, tu ci verrai, tu ci verrai. Chissà se mamma mi osserva anche da lassù, l'unica donna che amo sarai sempre tu, la guardavamo insieme e ora sono in tv, gli occhi li ho presi da te, ma non ti vedo più. Grazie a tutti.